Bentornati, salve a tutti, quarta conversazione sulla guerra fredda dove tenteremo una risposta ad un'altra domanda. Ci fu un positivo in questa guerra fredda o è tutta negativa? Allora, non tutti gli storici concordano a rispondere a questa domanda. Il processo di guerra a distanza fra USA e URSS però bisogna dire che favorì, o forse se non lo favorì fu solo una circostanza storica di contemporaneità, favorì il fenomeno della cosiddetta decolonizzazione. Che cosa vuol dire? Furono gli anni 50 e 60 durante i quali USA e URSS lasciarono che gli stati europei se la vedessero da soli con le antiche colonie sopravvissute alla seconda guerra mondiale. e per onestà occorre dire però che poi USA e URSS che non tendevano, come ho già detto, ad una colonizzazione di tipo politico nel tempo poi realizzarono però una colonizzazione di tipo economico, soprattutto gli USA attraverso il sistema delle grandi multinazionali. In questa decolonizzazione cominciamo a parlare brevemente dell'India in cui va citato il Mahatma Gandhi, fu ricordato infatti così dalla storia. Mahatma significa la grande anima e il suo strumento per liberarsi dalla dominazione inglese fu la disobbedienza di massa verso i coloni o colonizzatori inglesi. Con due ulteriori caratterizzazioni diciamo, sempre dette in lingua pali, cioè la lingua che parlava, il Satyagra che vuol dire la forza della verità e l'Aim Shah che vuol dire la non violenza. Accanto a Gandhi e anche dopo Gandhi citiamo Yavaharlal Nehru, detto il Pandit Nehru, Pandit significa nella lingua pali maestro e filosofo. Insieme questi due lottarono nel 1947 l'India ottene l'indipendenza dall'Inghilterra. Ci sarebbero tante cose da dire, citiamo una sola celebre fu la famosa, tra le tante azioni di Gandhi, la famosa marcia del sale del 1930, cioè Gandhi organizzò una marcia con migliaia di indiani per andarsi a prendere da soli il sale, di cui l'India è una grande produttrice, e per evitare di comprarlo dagli inglesi che sfruttavano il paese e tassavano il sale stesso. Gandhi spese la sua vita nel rifiutare tutte le collaborazioni con le autorità inglesi e nel boicottaggio dei loro prodotti, finì male perché soprattutto per la sua condiscendenza verso i Dalit o i Paria, detti anche gli intoccabili, di cui egli non cancellò lo status ma che cercò di favorire, Gandhi fu ucciso dal suo autista che era un fondamentalista hindù. Un altro settore nella decolonizzazione che va citato è il sud-est asiatico, lì man mano ci furono tutta una serie di ritrovate autonomie, già nel 1946 le Filippine ottennero l'autonomia pacifica dagli USA, gli USA avevano in mano le Filippine solo da pochissimo tempo, durante la seconda guerra mondiale. La Gran Bretagna dovette invece lasciare la Birmania, quello che adesso si chiama il Myanmar, e l'Indonesia, che oggi è il più grande paese musulmano, fu lasciata libera nel 1949 dai paesi bassi europei. Più complicati invece furono le situazioni in tre lontanissimi paesi, il Vietnam, la Cambogia e il Laos. La Francia lasciava molto malvolentieri il Vietnam, non lo voleva lasciare e dovette lottare contro un eroe vietnamita, Ho Chi Minh, che peraltro era un francese vietnamita e fu addirittura uno dei fondatori del Parti communiste français. La lotta fu dura, ma alla fine a Ginevra ci fu un trattato di pace nel 1954, al termine della conferenza di pace, e si accettò, si definì di creare i tre stati, il Vietnam, il Laos e la Cambogia. Vi dovevano tenersi elezioni libere che mai, peraltro si tennero. Il Vietnam infatti cadde subito sotto l'orbita comunista cinese e anche sovietica. Fu teatro di una durissima guerra contro gli USA che si è conclusa soltanto nel 1975. Chi non si ricorda, almeno quelli della mia generazione, le canzoni di John Bytes che cantavano contro l'invadenza USA in Vietnam, o la canzone di Gianni Morandi, c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Tutte canzoni belle che ho cantato anch'io, quello che però queste canzoni non dicevano e non dicono è che nel Laos, per esempio, col Patetlao e in Cambogia, con i fanatici e sanguinari Khmer Rossi guidati da Pol Pot, si instauravano due sanguinari dittature di sinistra, contro le quali Gianni Morandi non fece nessuna canzone, con oltre due milioni di morti, deportazioni, divieto del culto e campagne di rieducazione. Poi tra l'altro si fecero la guerra ai comunisti tra di loro, quando il Vietnam invase la Cambogia, che era alleata con la Cina, e a sua volta instaurò una dittatura terribile, costringendo molti vietnamiti a lasciare il paese. Una brevissima citazione nel mondo, diciamo, che non è proprio della decolonizzazione, di Israele del Medio Oriente. Il 14 maggio 1948, data da non dimenticare, il generale Ben Gurion, considerato un grande eroe da tutti gli ebrei del mondo e raffigurato nella moneta cartacea lo Shekel, proclamò l'indipendenza di Israele, terra ebraica. Fece una sorta di colpo di Stato, diciamo, incruento, mentre l'ONU, con la risoluzione 181, aveva invece definito l'opportunità di creare in quell'area geografica due Stati, uno ebraico e uno palestinese, e di tenere Gerusalemme sotto un'amministrazione ONU. Invece Israele incapsulò nel suo territorio milioni di palestinesi che già vi vivevano, infatti gli ebrei non ci vivono più a partire dalla diaspora, si scatterano tra arabi israeliani ben quattro guerre, la prima nel 1948-1949, la seconda nel 1956, la terza nel 1967 e la quarta guerra dello Yom Kippur. Nel 1973, facciamo questa storia molto per pillole, adesso la situazione di Israele è apparentemente più tranquilla perché la pace con questi Stati Arabi è stata fatta. Per ultima cerchiamo l'Africa e le varie indipendenze dell'Africa. Il 1960 fu chiamato l'anno dell'Africa perché pensate, in quell'anno ben 17 Stati africani divennero indipendenti, ma la più grave crisi fu in Algeria, un'altra colonia francese, poiché il paese era abitato già da un milione di francesi che ormai avevano lasciato tutto in Francia e si erano abituati a vivere in Algeria e che non volevano assolutamente lasciare l'Algeria. Così dal 1956-1962 infuriò la guerra tra Francia e Algeria e il culmine fu la battaglia di Algeri, sanguinosissima nel 1957. Allora si fronteggiarono da una parte il generale Charles de Gaulle, dall'altra parte due eroi ritenuti eroi algerini, Mohamed Ben Bella, cui successe Ouari Boumediene. Ultima e ben diversa fu costituzione del regime razzista in Sudafrica. La segregazione razziale o apartheid non fu causata attenti bene dagli inglesi che avevano dominato il Sudafrica, ma dai bianchi sudafricani che erano una netta minoranza in Sudafrica e comunque erano figli della unificazione tra i Boeri e i coloni inglesi attuata nel 1910. In questa grande lotta che ebbe fine solo al 1990 si distinsero il presidente bianco, de Klerk, insieme a Nelson Mandela, che anche lui premia Nobel per la pace, che ottennero la fine del regime dell'apartheid. E abbiamo finito anche con la decolonizzazione. Alla prossima!